Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi mostrerò dei lavori che faccio io. Questo che vedete è uno sfondo ed è una cartelletta che ho fatto a mano completamente io. La decorazione, i colori, tutte queste macchie colorate sono tutte opera mia. Anche questo, questo laccio è stato fatto da me. E' da qualche anno, quindi si è un po' scollato. Allora queste sono degli sfondi, degli sfondi che io adopero come carta da regalo oppure come base per fare dei disegni. Il materiale usato è appunto la carta da pacco, la carta da pacco che poi ho decorato. Ecco, poi sono su questo sfondo, poi ho disegnato questi teschi anni fa, quando ho fatto l'esame di anatomia artistica. Quindi non ho avuto, il teschio non è stata una scelta magabra, ma è per l'esame di anatomia. Quindi lo sfondo, l'ho adoperato per questo. Ovviamente poi il foglio si può anche telare, mettere, inserire in una tela. Ci sono alcuni sfondi che ho usato come carta da pacco e quando qualcuno ha visto questi lavori e me li ho anche commissionati come carta da pacco. Questa è tra le mie preferite, diciamo che poi ce ne sono alcune che mi piacciono di più e che ho difficoltà ad utilizzare. Questa è anche una che preferisco. Mi è venuto in mente di fare questo video perché stavo cercando io ho una carta regalo per questo bocco fotografico, quindi volevo capire se ce n'era già una pronta, anziché farne io una per i colori dell'album. Questa è un altro sfondo con sempre il teschio disegnato così a metà. Questo pure è tra i miei preferiti perché mi piace queste macchie e poi c'è un bel equilibrio tra il magento e il giallo e il ciano, quindi anche questo. Questi qua diciamo che sono tutti su una tipologia di colori uguali, quindi sono tutti omogenei. Forse questo album si addice a questo. Infatti lo metto da parte perché potrebbe essere un foglio giusto, anche questo potrebbe abbinarsi, anche se questo è un po' troppo sul magenta e l'album non ha colore di magenta. Poi questi sono più grandi. Se troverò, io spero di non fare troppo rumore, a questo ho voluto dare prima una base tipo color pergamena, poi dopo che ho fatto questo effetto pergamena ho usato questi colori sul blu, questo è un bellissimo, questo è un bellissimo, questo è un bellissimo, questo è pure da poco. Questo è tutto su un unico colore, anche se c'è qualche puntino di verdino, forse qui si potrebbe anche riprendere e fare aggiungere un altro colore. Questo è un girato. Questo qui, questo è particolare, perché questo qui per fare questi effetti e per mantenere una grana particolare ho usato il sale, io non so se... e c'è il sale che dà questo effetto un po' strano e mi piace molto come colore, perché il rosa antico, questi colori qui sono tra i miei preferiti. non vorrei fare molto casino, però c'è già l'ambulanza, questo l'ho lasciato molto tenue. Sono tutti girati. Ecco, questo qui fa parte di quella collezione lì, ed effetti anche questo si potrebbe abbinare all'album. Ecco questo che poi è uguale allo sfondo che avete visto qui. Molto simile. Questo è anche bellino. Io, per fare questi sfondi, utilizzo vari colori, nel senso, vari colori, nel senso, in generale uso soltanto i tre colori primari. uso i tre colori primari e uso quelli della marca, gli Ecoline, no Ecoline, non so come si pronuncia. in inglese, se è in inglese. uso i tre colori primari, il giallo, il magenta e il ciano o il blu primario, come alcuni preferiscono voglio chiamarlo. E bagno la carta e poi faccio cadere delle gocce di questi colori in base all'intensità e in base a quello che poi voglio fare, vado sovrapponendo delle gocce. così poi uso anche la china e la china, l'inchiostro di china, uso, ho sempre il magenta e il giallo e il blu primario e poi anche il nero. quindi posso adoperare anche delle gocce piccolissime di nero, però è molto diluito perché il nero macchia troppo, fa delle macchie nere troppo evidenti. ecco questi qui sono dei modellini, ho usato questo sfondo per poi fare questi disegni. ecco questo qui è anche un disegno, non so, non anche com'è, lo stavo evidentemente, mi stavo esercitato per fare un disegno. che ho lasciato un po' campati in aria, ed è una mano con le fasce muscolari e i dentini. ecco allora dovrebbe essere forse così perché questa è la scapola e questo è l'omero, questo è il braccio. ah e questo qua si, questo è la parte del, non mi ricordo quale muscolo è, però, questo è un orecchio, il collo, il petto, quindi questi sono fasce muscolari pettorali, questo è già il braccio, e questo è sempre il braccio. questo è sempre uno dei miei disegni e questo è lo sfondo per la costruzione dello scheletro, poi per adoperare nell'anatomia, per disegnare poi il corpo umano. questo è un altro disegno che avevo fatto, ed è appunto la parte del torace però da un lato con lo scheletro e da un lato con le fasce muscolari. questo sono le varie posizioni della mano, quindi qui è soltanto lo schizzo per impostare la posizione, qui con le varie parti dei muscoli per evidenziare i muscoli, qui è lo stesso schizzo però dall'altro lato. e qui è la mano ebrona e subina, quindi questa è subina e questa è brona con le fasce muscolari. allora questo, questo qui è sempre un disegno, non so se riuscite a vederlo bene, è questo qui. questo da un certo punto di vista è quello che mi piaceva meno. però poi alla fine è risultato quello che sì, sono riuscita a inserirlo bene nello sfondo, perché nello sfondo c'erano queste macchie già fatte così, quindi... e sono finite e io spero che questo video sia stato di vostro gradimento e ricordatevi di seguirmi sugli altri miei canali e io vi do appuntamento al prossimo video, ciao! 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 ciao!